l'incenso è una resina naturale cristallizzata che durante la combustione emana fumo profumato l'origine dell'incenso risale a tempi antichissimi esistono molte varietà di incenso in base alla pianta dalla quale si estrae la resina che viene poi trasformata in grani polvere o in bastoncini di diverse tipologie a seconda della tradizione del luogo le modalità di bruciare l'incenso variano in funzione della tipologia dell'incenso stesso per bruciare l'incenso in grani e in polvere è necessario utilizzare una carbonella ardente mentre per i bastoncini e per l'incenso tibetano si ricorda ad un apposito supporto o a ciotole di sabbia l'incenso richiama tradizioni ancestrali attimi ricchi di spiritualità utili nel sublimare momenti di vita quotidiana in ritualità ricche di significato il fumo sale verso l'alto creando un contatto tra il mondo noto e la sfera del non noto grazie a tutti